Abbiamo appena passato l'Ainate Praticamente non ho ripreso l'inizio del giro perché più o meno la partenza è sempre quella Settimo Milanese, Ro, eccetera Adesso siamo entrati in questo parchetto qua, questo boschetto Siamo diretti a Legnano Tre giri fa siamo già stati a Legnano Però oggi stiamo facendo un giro diverso Torniamo a Legnano perché mi è arrivato un pezzo di ricambio della mia Africa Twin 1100 E mi hanno telefonato, quindi Motomachion mi ha telefonato E quindi vado a ritirarlo, è piccolino, posso prenderlo anche in bicicletta E poi lo monterò su io Quindi uniamo l'utile a dilettevole Giro in bici, ritiro del pezzo di ricambio per la moto E andiamo a salutare Giuseppe Beppe Macchion Cos'hai visto? Piazza delle Rose Sì? Bello Sa che non mi ricordo più di qua Ah sì Adesso mi è venuto in mente Sì sì E siamo andati di là A destra siamo andati Adesso andiamo di qua Grazie Seguendo il Villoresi Non so se siamo all'altezza di Nerminano penso E quindi Siamo passati da Parabiago, qua siamo nel centro, adesso proseguiamo, riprendiamo la nostra strada a Perlegnano. Proseguiamo? Andiamo avanti? Andiamo, andiamo avanti! Guarda che roba! Eccoci a Legnano, eccoci arrivati all'officina di Motomacchion dove devo ritirare questo pezzetto di ricambio piccolino della mia Africona, Africatui 1100, ecco qua. Allora operazione Motomacchion effettuata, adesso siamo nel parchetto qua di fronte all'officina. Poi alla fine siamo nel parco del castello, una volta che abbiamo visto il castello solo vediamo il laghetto, quello qua. questo è lo stesso parco del castello credo no? Ma io qua c'ero già stato. Si. Dica dica. No, non ci sono stata. Ho capito, la devo spegnere. Chissà cosa mi devi raccontare. Avrei conosciuto qualche bella ragazza e la mina non lo deve sapere. Wow! 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 Vila Cortese. Grazie. Vila Cortese. Allora, Vila Cortese. Allora, Vila Cortese. Abbiamo lasciato Busso Garolfo, stiamo andando verso Casorezzo. Fortunatamente stiamo trovando tutte ciclabili. Lezione Vittuone perché dobbiamo provare a tornare a mangiare dove abbiamo mangiato tre video fa. che hanno antipasto, eh no? Sì, antipasto. Sbagliato. Hanno primo o secondo contorno e poi o vino o acqua e il caffè. L'antipasto? No. Per 10 euro direi che va bene. Va bene così, dai. Siamo arrivati a Vittuone, questa è la stazione di Vittuone. Adesso andiamo a cercare il posticino per mangiare. Vittuone. Sentiamo già odore di cibo, eh. Vittuone. Siamo arrivati così. L'altra volta a Vittuone abbiamo mangiato le due meno un quarto perché non trovavamo un posto aperto. Era il 30 di agosto, credo. Oh, non sarà chiuso mica per turno, eh? No, no, è aperto. Eccoci qua. Bene, segniamo tutto e sediamoci a mangiare. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Adesso invece un polpettone, ripieno e piselli. Come sempre c'è qua il vinello bianco, leggermente frizzante, bello fresco visto che siamo a fine settembre ma fa ancora bel caldo. Buon appetito! Io sto parlando e tu lo devi mangiare. Hai capito? C'ha fame Roberto. Grazie. Eh, toccone la guiaia! No, 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 no! Ehi? Eh, all'uomo da te presta! la vegetazione qua aumenta anziché diminuire ok c'è da fare il pezzettino così sì ok adesso riprendiamo la traccia originale la sollevi te no 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 con quello che pesa ci manca solo che la sollevo ecco qui ok non mi ero mai accorto sinceramente che c'era un tavolino tu te ne eri mai accorto sì io non l'ho mai visto allora pranzato a vittuone poi abbiamo fatto bareggio poi san pietro all'olmo adesso siamo quasi a cornaredo ci fermiamo qui questa casetta bar per farci una birretta ah ma che bello qua di dietro al sole che fa piacere ecco qui ci mettiamo qui dai aspetta sta andando si sta andando ok salute salute una bella birretta dopo pranzo ci vuole per digerire poi abbiamo appena finito di mangiare ma ci ha portato anche le patatine le pizzettine e le patatine siamo apposta ciao va fammi togliere il cappellino qua nel metto così mangio di più bella fresca belle salate meno più veloce però la corona levante come fai a pulire quella non te la pulisci adesso te lo spiego la marina mi ha regalato una spazzolina che danno nelle coppiezze della tinta dei capelli per le donne sai la tinta dei capelli? 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 ecco un pettinino lì uno spazzolino che altro? ma dato quello lì e con quello lì e però con quello va sempre di uso quel liquido lì della Decathlon eh sì quello devi mettere sotto il giornale per pulire un po' la cattina per pulire la corona ecco perché la corona si torca mica male eh ed è difficile andare no con quello lì piano piano riesci a tirarla via un po' beh dopo la lezione di pulizia a catena forse finora bene eccoci arrivati anche oggi a fine giro settantina di chilometri fatti la meta era a Legnano per andare a ritirare un pezzo di ricambio della mia moto della Honda Africa Tui 1100 da Moto Macchion una volta ritirato il pezzo ci siamo inventati un giro così per allungare un po' la strada insomma da casa mia a Moto Macchion sono 25 chilometri invece questo giro in bici è durato 70 chilometri se non sono 70 saranno 68 69 poi vediamo a casa e quindi niente quindi come al solito in descrizione il link di tutti i nostri giri in bici playlist a caccia a caccia di ciclabili link in descrizione e moto che passione tutti i nostri giri in moto miei e di Doni mia moglie Doni un po' dappertutto in giro per il mondo ciao alla prossima ciao ciao ciao